Salve a tutti, mi chiamo Montanari Moreno, sono il presidente di COES Italia. Oggi sabato 6 ottobre siamo qui a Reas di Montichiari, alla fiera dell'emergenza, e abbiamo organizzato un convegno sul trasporto e la tutela del paziente pediatrico neonatale. Ha collaborato insieme con noi ASAPS, STEM, che è una ditta che utilizza gli ammortizzatori per le ambulanze, ha collaborato con noi FERNO, Italia, e ha collaborato con noi anche Giovanni Morese, che è un autista soccorritore del COES Italia. La giornata è stata piacevole, le sali erano piene, peccato che non c'è stata la possibilità di un piccolo intervento degli astanti per le question time, ma il tutto è filato liscio, con estrema curiosità e interesse per l'evento che è stato programmato. È piaciuto e quindi ci auguriamo di riproporci il prossimo anno per un altro evento in cui lasciamo anche a tutti gli associati o a chi visita il sito del COES Italia di mandarci informazioni sulle tematiche che possiamo affrontare per essere utili agli iscritti e agli autisti soccorritori. La giornata di oggi quindi è un bagaglio formativo che ogni autista soccorritore ha imparato su nozioni di trasporto, nozioni di tutela sul trasporto pediatrico, sulle conoscenze dei presidi che si possono utilizzare e di come si deve comportare quando alla guida dell'ambulanza ha all'improvviso un soccorso con un pediatrico da gestire. E quindi sono tutti consigli e norme e leggi che deve comunque essere in grado di conoscere e mettere in pratica nel momento in cui ha questa volontà di fare l'autista soccorritore. Grazie